Colpo nella notte all'ufficio postale di Tuglie. I malviventi hanno messo in atto il loro piano poco dopo la mezzanotte e stando ad una prima ricostruzione hanno letteralmente sventrato il postamat collocato all'esterno dell'ufficio postale di via Tito Schipa per poi impadronirsi delle banconote che vi erano all'interno. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati gli stessi dipendenti giunti questa mattina per cominciare la loro giornata lavorativa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicola assieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gallipoli. Al momento le autorità competenti stanno quantificando l'ammontare del bottino. Adesso si spera nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona così che gli investigatori possano ricavare dettagli maggiori per individuare gli autori del colpo. Pare insomma che gli sportelli automatici siano diventati da tempo l'obiettivo preferito dai ladri, specie in questi giorni di festa.